È una partita importante, credo. Tutte le volte che ho giocato contro la Juve è stata importante per noi. Dall'altra parte hai un misto che conosco benissimo, però faccio tifo per Milan perché è la squadra che ho giocato, quindi sarebbe contento se Milan alla fine della partita vincere questo incontro. Sì, parlo sempre con lui. Questo anno un po' meno perché è tante partite, è difficile di parlare, però l'anno scorso ho parlato tantissimo con lui, però tifo per Milan. È una grandissima squadra e a un momento o l'altro deve venire in Champions League perché merita di essere là. Quindi questo anno non accorre l'opportunità di trovare la Champions, quindi deve vincere partiti importanti come questo.